La nostra società è stata costituita nel 1971 da un gruppo di genitori appassionati di scherma e sono 50 anni e siamo ancora qui. Oggi la nostra sala d'armi accoglie tantissimi ragazzi e ragazze da sei anni in su, li avvicina alla scherma, alla spada e al fiorezzo. Tanto agonismo, ma soprattutto tanta attenzione alla formazione dei più piccoli. La scherma è uno sport che aiuta sin da piccoli a incanalare le proprie emozioni e insegna valori come il rispetto per se stessi, per l'avversario, per le regole e la lealtà. La diversità è una ricchezza e il nostro migliore insegnante è il nostro avversario. Per me la scherma è una famiglia perché quando vengo in palestra mi sento come se fosse a casa. Amicizia, divertimento, condivisione in un ambiente rispettoso. Questa è Scherma Bresso.